Ciao ragazzi e benvenuti back to the channel. At the moment I'm in the airport, I'm just arriving with my flight, but which is the destination? And yes guys, the city is London. Today I will show you some part of the city and tomorrow we will go in a big gym to have a massive workout. So let's go! Let's go! Hi guys, now I've bought some food and I decided to have my lunch here at the St. James Park and then I will show you Piccadilly Circus, the Buckingham Palace and Trafalgar Square. Let's go! Let's go! Let's go! The food is amazing guys, also the view, and how we can continue to visit the city. Let's go! Let's go! Let's go! And now, the fuck got square. Let's go! Let's go! Let's go! Hi guys, I've just bought the food for tonight and then I will wait the sun that goes down to make a good time lapse. That's the food from wasabi, sushi and bento, fresh daily. So guys, that's my dinner. It looks very great. And then let's eat. Let's go! Ciao ragazzi, come potete vedere sono finalmente arrivato all'hotel, il quarto è molto piccolo ma penso che sia bello, qui abbiamo il mio bagno, il mio sacco e una piccola tv, abbiamo qualcosa per fare un buon tè e finalmente abbiamo il bambino, molto piccolo ma penso che sia bello quindi ora ragazzi, devo planare le attività per fare il morgeno, avere un cuore e un tè Ciao ragazzi, il primo giorno qui in Londra è finito, ho visitato molti paesi e vedremo domani al gym Ciao ragazzi, come potete vedere sono finalmente arrivato al gym, ora sono in sud london e niente, Ciao ragazzi, let's work out Ciao ragazzi, ciao 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 La gym è fantastica, La musica è molto forte ma ora facciamo i piedi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.